Sgominata una banda di camionisti pregiudicati che hanno venduto ad un ricettatore padovano una ventina di carichi di tir che nove ditte venete avevano affidato loro. In cacere sono finiti Michelangelo Mercoli di 28 anni di Camponogara, Luigi Francesco Suriana di 47 e 45 anni di Eraclea, Francesco Salvadori di 44 anni di Villorba e Paolo Abele Rodà di 60 anni di Mira. Obbligo di dimora per altri camionisti di cui è stata accertata una responsabilità minore. L'importanza della nostra operazione è stata proprio quella di collegare i vari episodi e di capire come c'era sotto un sistema unitario che aveva programmato il tutto già in partenza. L'operazione Ghost Track, tir fantasma, è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Venezia che hanno contestato alla banda che stava mettendo in ginocchio le sue vittime anche il reato di associazione a delinquere. Qualsiasi reato a danno oggi delle imprese ma anche del comune cittadino non può essere sottovalutato. Uno degli arrestati si presentava alle dita di trasporti offrendosi di effettuare in appalto spedizioni che altrimenti la società non avrebbero potuto soddisfare per mancanza di mezzi. E poi invece di portare a destinazione la merce il camion si dirigeva da un ricettatore. Trattavano esclusivamente Ghisa che veniva acquistata da acciaierie. Un milione di euro il danno causato alle nove società. Un'azienda mestrina è rimasta vittima di ben 13 sottrazioni fraudolente. I carabinieri hanno sequestrato alla banda 15 mezzi per un valore stimato attorno ad un milione di euro.